Musica Cari telespettatori, rieccoci insieme anche in questa serata e come sempre andremo ad approfondire diverse questioni, diverse tematiche. Spazieremo in questioni sia di attualità, di stretta attualità politica che riguardano anche realtà distanti dalla nostra per poi invece andare ad affrontare degli argomenti molto interessanti che riguardano la nostra salute, il nostro quotidiano. Ma prima ancora, come sempre, ci sono argomenti molto importanti che riguardano tutti i cittadini e lo facciamo con un'associazione di consumatori nello spazio dello SPCGL, tra poco.